Guardate, ti dico, mettete qua, mettete qua, nuovo! A me non si sente! Ah, pure te! Ah, bene, non volevo... Non volevo, non volevo... Ma tu non volevi quello che pagare insieme, no? Eh... Cioè, non è che ci stavo, no? Ah, roba! Che stavo rotto, ragazzi! Aspetta, torparia però! Proprio gli spicchi dell'uovo, sopra ogni trancio, del prosciutto, l'oliva, il cacciofino... E' bello questo! Poi vuoi sentire, tieni! Guarda, la qualità la paghi! Sì, è bello! Eh, il mio ragione è diverso! Posso fare un filmato, sì? O domandare a un amico? No! E' di questo, come la paghi? No! E' bello! No! Guarda, allora, paggi alla sua forma! Guarda! 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 Allora... Grazie a tutti.